Ciao a tutti da Vittorio, che dire, clamoroso perché ieri sembrava fatta, anzi c'era l'accordo con Claudio Lotito per il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi e invece oggi Inzaghi ha detto sì all'Inter, è vero non aveva firmato il contratto con la Lazio però ha dato la sua parola e invece oggi ha cambiato idea. L'Inter disperata dal rifiuto di Allegri è piombata su Simone Inzaghi, offrendogli il doppio di quanto offriva la Lazio e Inzaghi ha cambiato idea e sta andando a Milano a firmare il contratto, è vero con la Lazio non l'aveva firmato e ha dato però la sua parola e di solito fra persone serie la parola vale come una firma e invece Inzaghi fa una figuraccia perché è vero sei liberissimo finché non firmi il contratto di fare quello che vuoi però quando hai dato la parola di solito le persone per bene la rispettano e invece Inzaghi non l'ha rispettata, ha detto di no oggi quando Lotito ha chiesto di firmare il contratto ed è andato a Milano dove riceverà il doppio dello stipendio. Inzaghi si professa grande Laziale ma veramente fa una figuraccia clamorosa e soprattutto dimostrando che sì magari è Laziale ma i soldi contano di più. Fa una figuraccia secondo me anche l'Inter perché si comporta in modo scorretto visto che Inzaghi aveva un accordo e doveva solo firmare il contratto si è inserita ma diciamo che marotta di figuracce di comportamenti scorretti ne ha tanti però rimane il fatto che Inzaghi non firmerà con la Lazio andrà all'Inter per prendere il doppio di quello che prendeva la Lazio. Sono cose che fanno male, fanno male al tifoso che crede ancora al calcio perché la conferma è che alla fine contano solo i soldi. Sono tutti professionisti intendiamoci però quando dici di essere Laziale, di essere qua da vent'anni eccetera eccetera poi il giorno dopo l'Inter ti offre il doppio e tu cambi idea sicuramente non fai una bella figura, non fai veramente una bella figura soprattutto la faccia dei tifosi che ti hanno rispettato per anni. È brutto, è brutto però che dire nella storia della Lazio ne abbiamo vissute tante di queste storie no? Bielsa aveva addirittura firmato un contratto non è mai venuto, Silva aveva dato l'ok non è venuto, insomma sono tanti i giocatori che e allenatori che sembravano fatti che poi invece hanno non sono venuti alla Lazio. Inzaghi solo l'ennesimo caso certo è brutto perché lui si è sempre professato laziale però che dire il mondo va avanti comunque la Lazio andrà avanti anche senza Simone Inzaghi, è andata avanti anche senza Maestrelli e Kinaia, pensate se non va avanti senza Simone Inzaghi.